Salve, in questo video introduciamo l'uso degli effetti e parliamo del primo di essi, la titolatrice. Applicando un effetto ad una traccia, compare una striscia marroncina sotto la traccia. Più effetti aggiungiamo, più layer si formano uno sotto l'altra. Gli effetti agiscono processando la traccia e restituendo un output modificato, ma, come al solito, le modifiche riguardano solo le DL e sono quindi temporanee e non distruttive. Si possono rendere definitive solo con il rendering finale. Tutti gli effetti si trovano nella finestra Risorse, suddivisi in effetti audio e video, che possono essere applicati, cioè trascinati, solo ai relativi tipi di tracce. Se nella traccia sono presenti clip, allora si può trascinare l'effetto su tutta la traccia o solo su una clip. Se non sono presenti clip, allora l'effetto si cancellerà. Si può però anche scegliere prima una regione selezionata. L'effetto si applicherà solo a questa regione, sia che contenga dati, cioè clip, o che sia vuota. Quando riproduciamo una traccia con più strati di effetti, questi vengono processati uno alla volta a partire dall'alto. Quindi per primo si applica l'effetto superiore, poi all'output di questo si applica il secondo effetto, e così via. E' importante tenere presente questo ordine di esecuzione. Invece di usare il drag and drop dalla finestra risorse alla timeline, un effetto può essere applicato alla traccia anche facendoci il click con il destro e scegliendo aggiungi effetto. In questo modo abbiamo più controllo e scelta su cosa stiamo facendo, ed in più possiamo sfruttare altre due tipologie di effetti, cioè gli effetti condivisi e le tracce condivise. Infatti si apre una finestra suddivisa in tre box. La prima mostra la lista di tutti i plug-ins che possiamo applicare alla nostra traccia. Il risultato è comunque lo stesso di quello ottenuto con il drag and drop. Gli altri due box li vedremo fra poco. Una volta applicato l'effetto alla traccia, possiamo cliccare la lente di ingrandimento per aprire la finestra di configurazione dell'effetto. Lo stesso si può ottenere cliccando con il destro sulla striscia marroncina e scegliendo la voce Mostra. Quasi tutti gli effetti hanno questa interfaccia di configurazione. Ognuno ne ha una specifica, ovviamente, dove possiamo scegliere e modificare vari parametri che regolano l'effetto. Le vedremo via via che esamineremo i plug-ins principali. Gli altri due box della finestra Attage Effect, aggiunge effetto, riguardano i cosiddetti effetti riciclati, che sono gli effetti condivisi e le tracce condivise. Perché possano comparire voci in questi box è necessario che esistano altre tracce e altri effetti nella timeline, per di più dello stesso tipo. Il concetto di Shared Effect, o effetto condiviso, è quello di applicare lo stesso effetto presente nella traccia originale su un'altra traccia, con gli stessi identici parametri. Ci si guadagna in leggerezza poiché lo Shared Effect è solo una copia e non l'effetto ex novo. Ma non si può configurare il tale effetto come vogliamo noi, perché prende la configurazione dell'effetto originale. Si può infatti vedere che manca la lente di ingrandimento per aprire l'interfaccia di configurazione. Notate i termini traccia originale ed effetto originale, perché li useremo spesso da ora in poi. Quando si riproduce su una timeline dove sono presenti tracce ed effetti condivisi, questi ultimi vengano processati copiando e usando le configurazioni degli effetti originali. Si ottengono due possibili comportamenti. O la traccia originale e i suoi effetti vengano mixati alla traccia contenente l'effetto condiviso e così miscelati e vengano poi diretti all'output, oppure il risultato congiunto di effetti ed effetti condivisi viene registrato su una sola traccia e da qui diretto all'output. Il manuale riporta l'esempio del riverbero, che è un effetto audio, che miscela le due tracce per ottenere un output che richiama un ambiente sonoro dato dalle due tracce contemporaneamente. Riporta anche un secondo esempio riguardante il compressore, altro effetto audio, che manda in riproduzione una sola traccia, che è il risultato della traccia originale e della traccia condivisa. Non ho mai usato questo effetto in Senelerra, poiché li applico esternamente con Audacity. Quindi non sono sicuro di come funzioni la cosa. Se qualcuno me la sa spiegare esattamente, benvenga. Apriamo una parentesi per ricordare il significato di alcuni interruttori della Patch Bay. Questa l'abbiamo esaminata nel video 5, ma voglio riprendere il funzionamento del pulsante Play Track, in italiano esegui traccia, e del pulsante Mute Track, in italiano l'orribile non inviare all'uscita. Veramente tremendo. Disattivando Play Track, i dati non vengono inviati al render e come conseguenza non li vediamo in riproduzione e nemmeno nel file ottenuto dal rendering finale. Per esempio, nel caso di tracce audio e video, otteniamo un solo file audio, senza nessuna componente video. Invece, attivando il Mute Track, i dati sono ancora presenti, anche se silenziati. In riproduzione continuiamo a non vedere il video, ma il file ottenuto dal rendering finale è composto dall'audio e anche da un video, pur essendo questo uno schermo nero, perché silenziato. Tenendo presente questi concetti, cerchiamo di capire la differenza fra effetti condivisi e tracce condivise. Come abbiamo detto, l'effetto condiviso porta l'effetto originale in un'altra traccia. Comunque, in riproduzione non vediamo sempre e solo la traccia superiore, sia essa la traccia originale o l'altra. Questo lo sappiamo già da parecchio. Se vogliamo riprodurre la traccia sotto, si deve disabilitare la Play Track della traccia superiore, oppure si ottiene lo stesso risultato abilitando la Mute Track della traccia superiore. Invece, se usiamo una traccia condivisa, cioè applichiamo la traccia originale con i suoi effetti all'altra traccia, otteniamo un comportamento più complesso, perché non trasferiamo il solo effetto, ma anche i dati della traccia originale. Abbiamo i due seguenti casi. Se sopra abbiamo la traccia originale e in questa disattiviamo la Play Track, allora in riproduzione vediamo la traccia sotto, ma che subisce un effetto doppio, cioè si ha il mix dell'effetto originale con lo stesso effetto già applicato alla traccia condivisa. Si raddoppiano così i suoi parametri. Nel nostro caso otteniamo un blu il doppio più scuro. Nel caso invece che sopra abbiamo la traccia condivisa, in riproduzione vediamo solo questa, con il suo effetto condiviso, ma, se attiviamo Mute Track, la riproduzione mostrerà sia il mix di effetti, cioè il blu più scuro, sia il mix dei dati video, cioè la sovrapposizione delle immagini provenienti dalle due tracce. Strano risultato, vero? Confesso di non trovarmi molto a mio agio con questi comportamenti. Comunque quello che conta è che la differenza fra effetti e tracce condivise è abbastanza chiara. L'effetto condiviso si porta dietro solo una copia dell'effetto originale. La traccia condivisa si porta dietro sia all'effetto originale ex novo, mixandolo e quindi raddoppiando il suo valore, sia i dati video, mixando i frame delle due tracce. Considerate che ho fatto il caso di tracce video. Quelle audio non le affronto perché ci capisco ancora meno. Dopo tutta questa teoria parliamo adesso delle operazioni di editing nella timeline che possiamo fare nello strato marroncino dell'effetto. Si possono utilizzare più operazioni. Per esempio il drag and drop ed il cut and paste funzionano anche sugli effetti. Si possono fare operazioni di trimming sul layer, usare gli in e out point e così via. Questo perché in genere quando si edita una traccia contemporaneamente si edita anche l'effetto associato. Se si taglia una regione della traccia anche l'effetto subisce lo stesso taglio. Se si trascina una clip dentro degli in e out point anche l'effetto viene trascinato in quella regione. Questo comportamento può essere disabilitato dal menu preferenze edita effetti che disaccoppia l'editing delle tracce dall'editing degli effetti. Sinceramente a chi serve fare tale disaccoppiamento? Il trimming, analogamente che per le clip, si fa posizionando i corsori sul bordo iniziale o finale del layer e poi trascinando avanti e indietro. Diversamente che per le clip, però, non esiste il concetto di lunghezza della risorsa originale come limite massimo invalicabile per cui possiamo espandere o restringere a piacere. Se esistono più strati di effetti e questi appartengono ad un gruppo, cioè hanno i bordi iniziali allineati, allora il trimming funziona contemporaneamente su tutti i layer. Se vogliamo invece agire su un solo effetto lasciando inalterati gli altri, si usa il Shift più Drag. Lo avevamo già visto nel video 10 fra i vari tips. Se lo strato dell'effetto è per esempio più corto della clip nella traccia, cioè rimane dello spazio, anzi è meglio dire del tempo libero, possiamo trascinare un nuovo effetto nella traccia scegliendo se porlo in un nuovo strato sotto a quello già presente oppure metterlo affiancato all'effetto, cioè sulla stessa riga. Infine, se sono presenti più strati, possiamo spostare i singoli strati più in alto o più in basso tramite il clic destro sul layer e scegliendo muovi su oppure muovi giù. È un'operazione utile, visto che l'ordine influenza il suo essere processato prima o dopo. Però fate molta attenzione, se ci sono degli Shared Effect oppure tracce condivise, questi potrebbero perdere il collegamento all'effetto o traccia originale perché continuano a puntare ad uno strato che in realtà è cambiato. In questo caso possiamo ripristinare il giusto collegamento facendo clic con il destro sullo strato e scegliere Cambia. Ora nella finestra con i 3 box si può rifare l'applicazione dell'effetto da capo. Ora una novità. Finora ho letto e registrato gli appunti basati sul manuale e poi, con questa registrazione audio in cuffia, registravo il video cercando di essere il più sincronizzato possibile. Da questo derivano tutti gli sbagli o gli impuntamenti presenti nei miei video. Il fatto è che ero obbligato a fare così perché se non leggevo gli appunti mi dimenticavo di continuo alcuni passaggi. Siccome il mio scopo è spiegare il manuale punto per punto erano troppe le cose che saltavo o che mi ricordavo di riprendere solo in un successivo momento, cambiando l'ordine scritto nel manuale per esempio. Facendo molte prove nei due modi mi sono convinto che il primo metodo, anche se porta a tanti piccoli problemi di sincronizzazione, è comunque il metodo migliore perché proprio non posso imparare tutto perfettamente a memoria. Ora però, che si entra nella descrizione dei vari plugins, passo al secondo modo e descriverò gli esempi in diretta, cioè procedendo simultaneamente con voce e video. Spero che la qualità narrativa ne guadagni. Purtroppo non cambierà il mio tono piatto e le mie esse sibilanti. Mi dispiace di questo e ne chiedo scusa. Pensate che prima di iniziare a registrarmi non avevo la minima idea di quanti difetti avesse la mia addizione, per non parlare dell'accento senese. Della pronuncia sbagliata di parole inglesi, che faccio di continuo, invece non mi scuso e in realtà non me ne vergogno nemmeno perché le trovo cose molto comiche che ogni volta che le sento mi fanno ridere. E quindi, beh, pazienza, continuerà così. Grazie.